13 persone sottoposte a fermo ed il sequestro di due attività imprenditoriali. E' questo il bilancio dell'operazione denominata Metropoli Hidden Economy, coordinata dalla DDA di Milano e condotta dalle Fiamme Gialle di Pavia, con il supporto dello Scico di Roma. Gli investigatori ritengono di aver fatto luce su una presunta associazione criminale composta da soggetti a vario titolo impegnati nel traffico di cocaina, hashish e marijuana. Il gruppo avrebbe avuto a capo Davide Flacchi, il figlio dello storico boss dell'Andrangheta calabrese nel quartiere Comasina di Milano, Peppe Flacchi, morto lo scorso gennaio. I reati contestati vanno dal traffico di stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso, all'intestazione fittizia di beni, alla detenzione e porto illegale di armi. Le investigazioni hanno ricostruito i flussi di denaro e condotto fino ad una carrozzeria che si ritiene fosse utilizzata dagli indagati anche per la riparazione di auto ai danni delle assicurazioni e ad un negozio di articoli sportivi. Entrambe le attività sono nella provincia di Milano e formalmente intestata a soggetti terzi, sebbene l'ipotesi è che siano in realtà riconducibili all'indagato principale. Le indagini hanno delineato inoltre le rotte dello stupefacente con sequestri che sono stati effettuati anche in Svizzera ed episodi estorsivi nei confronti dei clienti morosi. Luce anche su un traffico di armi, anche da guerra, come i famigerati mitragliatori Kalashnikov che sarebbero stati riforniti da cellule calabresi e balcaniche collegate. Grazie. Grazie.